Re Felipe di Spagna corre in soccorso del Governo di Madrid e conferma di essere contrario al referendum per l'indipendenza della Catalogna del 1 ottobre. La consultazione, convocata dal Presidente catalano, è stata dichiarata illegale da Rajoy. Sono sicuro che i diritti di tutti gli spagnoli saranno tutelati di fronte a coloro che si situano al di fuori della legalità costituzionale. La Costituzione prevarrà su qualsiasi attacco contro la convivenza e la democrazia, che è stata e sarà la base della nostra vita in comune e della nostra libertà, pilastro della nostra adesione all'Unione Europea. Il braccio di ferro fra Madrid e Barcelona continua. Il Premier spagnolo Mariano Rajoy ha ribadito che il Governo farà di tutto per impedire il referendum e far rispettare l'ordine costituzionale. Voglio dire che la Costituzione non è un testo mutabile, ma tutte le Costituzioni sono nate con la vocazione di essere permanente, come quella francese, della 58, tedesca del 49, italiana del 47 e degli Stati Uniti del 1787. La Procura dello Stato spagnolo ha intanto indagato circa 700 sindaci catalani sul 948 che si sono schierati a favore del referendum di autodeterminazione.